sa, negare spiritualmente il male e affermare spiritualmente il bene, una rivoluzione, lui la chiamava un'attrociata d'amore nella politica, sarebbe avvenuta. Cosa voglio dire? Noi oggi riteniamo, ed è evidente, che la crisi è morale, c'è una crisi antropologica devastante, c'è una canonizzazione dei vizi, il nome delle virtù, c'è una relativizzazione delle virtù, c'è l'insinficanza delle tradizioni, dell'identità, l'apologia dell'egoismo, lo definiamo in scrittura l'idolatria, l'egoismo di sistema, tutto il contrario di ciò che una leadership dovrebbe essere, se sono vere le premesse che abbiamo dato. E diciamo che la crisi è morale, in realtà la crisi è spirituale, è più profonda la crisi, è ancora più profonda, la crisi morale è una conseguenza della crisi spirituale, è l'uomo che ha sbarrito in se stesso questa identità, è l'uomo che ha sbarrito in se stesso questa unità, e l'uomo è prima di tutto spirito. Allora un leader deve avere intanto una visione dell'uomo, deve avere una visione della storia, deve avere una visione di un popolo, deve avere una visione di una comunità, e deve usare categorie spirituali, cioè deve intercettare le domande più profonde che sono nel cuore dell'uomo. Ecco perché per esempio Papa Francesco ha trovato una parola chiave per affermare la sua giudizia, è misericordia. Madre Teresa di Palbutta diceva che la misericordia è la lingua materna dell'umanità, perché tutti la possono intendere. Una piccola esperienza, sono andato giovedì in un nostro centro di accoglienza dove sono arrivati 18 minori non accompagnati sbarcati a Siracusa. 12 di questi provengono da diversi paesi africani, ottimi ragazzi. 6 di questi provenienti dall'Egitto, degli elinquenti. e non c'era bisogno di parlare con i veri, vedi che hanno il rifiuto dell'autorità, il rifiuto di essere educati, il rifiuto di accettare le regole di una casa, il rifiuto del mediatore, il rifiuto del direttore, e quindi mi chiamo e dico, che facciamo? Cosa facciamo? Li allontaniamo, posto che si possano poi allontanare, se volo messo, autorizzazione. Cosa facciamo? Dico, vengo. E cosa fai? Vi rimprovi? Imponi l'autorità dicendo, è arrivato il capo? Hanno 16 anni, 17 anni. Scappano da guerre. Hanno visto la morte dei loro genitori. Cosa c'è dietro questa ribellione? Come si fa a chiedere moralità ad un ragazzo, ad un giovane che viene da queste tragedie? Puoi parlare al suo spirito? E puoi intercettare dentro questa ribellione un bisogno d'amore, di affetto, il riconoscimento di una storia, il bisogno di essere aiutato laddove normalmente le leggi, i comportamenti umani non arrivano. Bene, la faccio breve, ma alla fine questi ragazzi mi chiamavano papà. Probabilmente non avevano mai chiamato papà una persona prima di allora. Quanto sei stato? Sono stato con loro 30 minuti e mi hanno detto alla fine quando ritorni, perché vogliamo ancora parlare con te. Avevano solo bisogno di parlare. Ora, io credo che oggi un video debba avere prima di tutto la capacità di ascoltare. c'è una sofferenza grande tra la gente. Adesso passiamo dagli muriati, gli ex detenuti, passiamo a tanta gente che non trova. Cerca leader e non li trova. Cerca padre e non li trova. Allora, credo che questo elemento sia fondamentale ed è una chiave interpretativa del nostro tempo. La vera rivoluzione è spirituale, dicevano gli discorsi. Lo dice un esiliato, lo dice un uomo provato, un uomo che comprende. La storia di allora non è diversa, non è meno tragica di quella attuale, fatta di frantumazioni, di contraposizioni. Dobbiamo ritrovare una dimensione spirituale. Se vogliamo parlare di morale, non basta la morale nazionale, serve la morale religiosa, quella che dà un'intelligenza più profonda dell'uomo. E religiosa è l'uomo, indipendentemente dal più concreto, perché questi sei ragazzi, come ho detto, erano musulmani, non erano cristiani o cattolici, erano se i ragazzi musulmani. La capacità di ascoltare, oltre a una capacità di guardare l'albero, che poi sono la stessa disposizione naturalmente dell'Ansa, è che il consiglio Santoro e si è trovato a Taranto, in un posto affatto tranquillo, una città rinaniata, lacerata, dove si sono alternati, aggiusti di potere, tutti gli ambiti, dove ci sono stati coinvolgimenti colpevoli, se non criminali, a diversi livelli. Come si fa ad ascoltare, come si fa ad esercitare un ruolo civile? Perché questo, lei ha anche per te, è riuscito pochi giorni fa a mettere insieme l'autorità che non si erano mai parlate, proprio sul suo, dei tempi scottanti della nostra propria attuale. Sì, prima di parlare di tanto, volevo dire che quello che Salvatore diceva, l'esperienza fatta in Brasile è documentato da tanti incontri in cui proprio lo sguardo, l'attenzione, l'abbraccio alla persona è quello che fa scattare il senso di essere accolto e di essere riconosciuto e quindi di avere valore, di avere valore e perciò è possibile ripartire di lì. Faccio un esempio, dove ero vescovo a Petropolis, c'era un bellissimo asilo, mantenuto dalla diocesi, e la direttrice è venuta a trovarmi e ha detto, eccellenza, io non ho bisogno di un aiuto economico, voglio che lei si faccia carico di questa esperienza, che mi stia vicino, perché ho bisogno, allora posso venire a vedere, sto con loro, sono stato lì a vedere i bambini, però ho visto una zona poverissima di Petropolis in una favela terribile, i bambini hanno fatto una festa straordinaria, però ho visto che il problema era delle mamme e dei genitori, dopo ho detto ma fate venire la settimana prossima dai vostri bambini, e allora la settimana prossima interseguenti sono venute le mamme di questo signore, questo è il signore, ho detto ma poverissima, una povertà terribile, proprio e ho detto ma perché non preparate delle magliette, delle camicette, delle borsette, qualche, ho dato alla direttrice degli strumenti per fare questi piccoli lavori che vogliono vendere giù nel centro della città, hanno cominciato hanno messo su una piccola si chiama il club il club delle mamme club da spazio allora hanno messo questo qui dopo sei mesi sono andato a trovarli e loro come va il signore e loro hanno detto bene eccellenza siamo riusciti Don Filippo il don si dai mescoli quindi Don Filippo abbiamo cominciato a vendere giù e per uno che guadagna al mese 40 dollari se ne vengono altri 5 altri 10 e già abbiamo cominciato a vendere però la cosa più bella del Filippo è che abbiamo scoperto che valiamo che serviamo a qualcosa cioè quella che si chiama l'autostima abbiamo riscoperto questo oltretutto poi dopo il nostro lavoro c'è un momento di ascolto della parola di Dio un momento di scuola di comunità un momento di approfondimento e quindi abbiamo riscoperto la nostra dignità ma Don Filippo la cosa più bella in assoluto è che quando noi siamo venute qui lei non ci ha chiesto se eravamo cattoliche se eravamo ben sposate la maggioranza era di ragazze e madri se eravamo giuste e me non tu semplicemente ci ha accorto quindi questa è la cosa di incendere cioè l'accoglienza che uno ha avuto lui la offre e rimane eccellenza credo che sia stato più facile con le mamme di quella scuola che non ha tanto è certo per questo per poi se la stringo ma vedo se è una domanda e sono i tempi abbiamo un quarto d'ora e io ho altre due domande a testa dopo quindi mi interessa perché è molto più difficile una realtà arrabbiata una realtà dove l'autorità non si riconosce dove non c'è neanche la voglia di essere ascoltati perché si pensa di sapere da tutto dall'una e dall'altra parte allora come si fa lo stesso a superare a questi ostacoli insurmontabili e a mettere di sempre la gente benissimo è verissimo molto più difficile tanto molto più difficile nel senso che a Taratone bellissima accoglienza e quando sono arrivato però lì con le mamme e anche con le autorità era più semplice il rapporto a Petrofris ecco anche perché c'è stata una grossa alluvione e lì ho avuto un compito specifico nel ripartire dopo l'alluvione a Taratone cosa è successo e prima di tutto sono stato a visitarle le persone in primo luogo all'ospedale Nord gli ammalati di cancro per causa dell'inquinamento quindi un contatto diretto con le persone ferite tutti tutti i gruppi dei medici degli ambientalisti che o mi andavo a trovare io o mi invitavo un'avvicinanza al problema del dolore della salute minacciata ferita violentata durante gli anni di giusto disattenzione dall'altro lato tutti gli operai che sono stati a celebrare in famiglia in Valdeca alla Cene e altre famiglie e poi che venivano a trovarmi allora con cosa c'è stato c'è stato prima di tutto il contatto poi ho approfittato di un incontro in cui un gruppo di ambientalisti una pediatra molto molto attiva nelle posizioni più 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 forti contro a favore della chiusura di Pimba sono venute sono venute a parlarmi e mi hanno detto che c'è reso il problema grave meno costo le loro ragioni e io avevo in mente di dirvi un convegno ho detto devo partire da queste che sono accese accarite ma tempo stesso hanno un desiderio buono nel fondo del cuore e quindi loro potrebbe venire un teologo di famiglia cristiana un altro che vuole lei un altro di noce eccetera eccetera facciamo quello uno di questi tre che vuole lei e poi dopo io mi do da fare per chiamare il ministro il ministro dell'ambiente il ministro della salute però voglio fare un convegno scientifico mettendoci su delle persone di scienza che mi dicano che è possibile produrre senza inquinare l'ambiente e questo c'è stato quindi molto più complesso molto più difficile poi c'era di mezzo il blocco della magistratura che il suo giudice non lo tocca insomma non è facile e poi giustamente il giudice ha il suo percorso quindi tutto il rispetto per in una situazione come quella è quello che ha fatto saltare e mettere in moto la situazione quindi il metodo più difficile ma l'approccio il cuore uguale ma perché sono venute da lei queste arrabbiatissime ambientaliste perché da pesco e non dal sindaco dal presidente del giovane non mettetevi a ridere senza parlare degli assenti allora perché evidentemente mi hanno visto quando sono andato all'ospedale no mi hanno visto quando sono andato delle cacce ha sentito la mia predica alla festa di San Catalano a tutti i guatti mi è venuta una di loro a dirgli io stavo camminando per strada e che tra l'altro mi era praticante questo ho sentito uno che parlava e ho detto ma chi è ma chi è e questo è il teo quindi c'è stato si sono sentite interpellate da qualcuno che prendeva sul serio la domanda è il problema che lo aveva io dicevo non mettetevi a ridere quando si fa riferimento in genere all'autorità civile abbiamo sempre un sorriso molto scettivo perché non ci sentiamo ascoltati e rappresentati però il problema c'è perché voi siete diventati dei capi perché siete dei testimoni da qualcuno ha scommesso su voi voi siete stati amati voi siete stati seguiti questo è possibile anche nella vita politica nella vita civile perché noi siamo davvero defrandati di personalità autorevole di cui poterci fidare è un problema di cui si è fatto carico l'evento sedicesimo chiedendo che i cattolici si impegnino in politica che non significa evidentemente acquisire posti di potere cioè e ci preme la formazione politica dei cattolici a te come responsabile del movimento ecclesiale così grande preme perché si può distinguere la vita religiosa da quella politica io riparto dalla dalla potestria con la quale si è posta Don Filippo e diceva esclusi gli assenti lasciatemi essere più esplicito si può essere presenti eppure assenti e se qualcuno si rivolge a lui sapendo che altre autorità sono presenti è perché lui presenta un modello di liberci presenta un modello di paternità presenta una visione della storia dei problemi e questo rende attraente la presenza è sempre un problema di presenza e quindi di capacità formazione politica il 7 settembre del 2008 per la prima volta il Benedetto XVI fa risuonare un'evidenza abbiamo necessità anzi l'urgenza di una nuova generazione di caratteristiche di caratteristiche